Per continuare a stupire, Laika punta sui nuovi motorhome Ecovip, eleganti e funzionali si pongono sul mercato come diretti discendenti dei Creos, da cui hanno ereditato il doppio pavimento tecnico riscaldato e rivestito, con tetto ad alto spessore fortemente coinventante. Tra questi sicuramente il 610 assume un'importanza fondamentale anche grazie alle sue misure compatte. Tutti i serbatoi e tutta l'impiantistica si trova all'interno del doppio pavimento, quindi consentendo anche un facile uso invernale per tutta la stagione, all year round, come dicono i nostri amici britannici. Lungo appena 6,55 metri riesce a dare il comfort di un classico motorhome, pur rientrando in una misura contenuta come quella di un semi integrale. È un modello che si presta anche per i grandi viaggi, nonostante le sue dimensioni contenute. Già dall'esterno se ne comprende l'importanza design dinamico e aggressivo che contraddistingue i nuovi motorhome Ecovip. Originale è la grafica delle pareti laterali, mentre quella posteriore è caratterizzata da una nuova fanalleria verticale. Laica ha lavorato, prendendo spunto dal settore automobilistico, inserendo in questa nuova gamma di motorhome storici, perché Ecovip è un nome storico, tutta una serie di particolari di design mutuati anche dal settore automobilistico. Ad esempio, il fascio di luci sotto il letto basculante, ottenuto grazie a una tecnica laser, ci consente di ottenere veramente dei bei risultati e un effetto straordinariamente scenografico all'interno della cellula. Sono invece tre le varianti del mobilio che rendono ancora più gradevoli gli interni. L'olmo toscano molto luminoso, rovere trentino più chiaro e noce melinga più scuro, tutte abbinate al bianco laccato degli sportelli dei pensili con maniglie cromo satinate. Questa è una pianta sulla quale abbiamo investito molta progettualità, perché era una sfida riuscire a far stare in 6,55 metri veramente tanto posto, anche per una famiglia. Esclusiva anche la pianta, che comprende un ampio matrimoniale trasversale in coda, posto su garage adatto anche al trasporto di una bici. Servizi centrali con box doccia circolare integrato con pedane in legno. È un bagno anche se compatto, ma derivato dai bagni delle serie più alte di Leica, quindi top di gamma, con molto legno e molti particolari di design alto di gamma. Zona Living predisposta come un grande soggiorno con 6 comodi sedute e innovativo tavolo traslabile e ribaltabile, realizzato in particolare laminato opaco antigraffio e antimpronta, realizzato anche per il piano cottura, estremamente facile da pulire. La grande dinette, che io amo piuttosto chiamare soggiorno, perché non solo è molto profonda ed è a L, ma anche una seduta laterale destra veramente ampia. Questa dinette consente tra l'altro di poter inserire anche il tavolo scorrevole a pavimento, dove il tavolo viene poi abbattuto lateralmente. Questo consente anche durante il viaggio un'estrema comodità di marcia, perché si ha un bello spazio davanti e si sta certamente più comodi. Cabina panoramica sormontata da un matrimoniale bascolante, con sedili conducenti e passeggero girevoli, alza cristalli elettrici, specchi retrovisori stile pullman riscaldati e regolabili elettricamente. L'illuminazione è total LED di intensità regolabile, con un gioco di luci di grande effetto scenografico. L'impianto elettrico è comandato da una completa centralina con display digitale di controllo e comando. Tutto orientato al comfort, il nuovo Ecovip 610, allestito sul nuovo Fiat Ducato, prevede l'isolamento acustico del vano motore. A renderlo ancora più esclusivo, la configurazione è su misura per i clienti, che eleva ancora di più l'abitabilità interna. Nuovo Ecovip 610 e scopri l'eccellenza laica.